Mi ha detto che gli hai fatto un bel risotto e era molto contento Ma risotto di osa? No, mi ha detto che è venuto a casa tua, ci è rimasto un po' male, però era contento Ma chi? Sto cazzo! Mamma mia, fai sempre le solite battute di merda Sto cazzo! Sempre le solite battute di merda, è possibile, fai sempre le solite battute di merda Le solite battute di merda! Lasciatevi le solite battute di merda!